eccoci ciao a tutti io sono alberto maestro di sci della sauce project abbiamo iniziato questa attività con i ragazzi disabili circa 13 anni fa e adesso siamo in grado di portare lasciare la gente con qualsiasi tipo di disabilità ragazzi ve lo dico possiamo fare gli attori con volare alto ci conosciamo ormai da tantissimi anni e marisa è stata una delle mie prime allieve oggi purtroppo non è potuta venire eccoci ok c'è un lettino adesso se vuoi per giuseppe ogni persona dobbiamo studiare un po il sistema per riuscire ad avvicinarlo allo sci ti piace andare a sciare si 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 cosa ti piace di più la neve è faticoso no no e i signori che ti ti accompagni sono simpatici si si sono bravi sono bravi allora facciamo ancora un tiro via via ok questa sì bravo 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 fortuna ecco la cosa importante è che chiunque è in grado di sciare sono sempre tutti felici diciamo noi diamo questa possibilità di avvicinarsi allo scia anche a chi proprio non riesce a camminare tutte le volte che si sale sulla sedia via si apre questo bloccaggio e la sedia si apre al libro la seconda è anche poi la grandezza del visabile, noi abbiamo diversi tipi di seduta perché vedi tutto questo perché non lo mai fare, è una cosa straordinaria, sono persone che non l'hanno mai visto la vita e quindi arrivare e vedere se gioia, la montagna Stona devi riprendere sto brutto qua, non lo metti al mondo, non ti riparai l'ansia che poi non ti ne ho più metterle E sono sempre tutti molto felici, per loro è uno scarico, è un vivere la montagna che è una cosa incredibile, le sensazioni ognuno le vive in maniera diversa, c'è chi respira un'aria che non ha mai sentito, c'è chi vive una situazione di velocità, insomma è una cosa che piace veramente a tutti Mi sto facendo provare la velocità che voleva Marisa, Marisa lei voleva, era tutta una gara con Giancarlo, molto bello comunque, tutto quel che dava sempre Buon appetito! 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 Buon appetito!